Musica Salute e tistrammoni e benvenuti in questo nuovo video Io sono sempre Sequestan e oggi siamo in un nuovo videino dove faremo la valigia insieme Prima di iniziare però vi ricordo di seguirmi su Instagram E che se volete supportare questo canale potete farlo dando un'occhiata al link Coffee, Fiverr e Vinted in descrizione Allora siiii facciamo la valigia insieme La prossima settimana parto, in realtà sono già partita quando voi vedrete questo video E vado in crociera! Quindi aspettatevi presto un vlog dove vi farò vedere tutto quello che ho fatto Così io vi giuro quante volte ho rivisto i vlog della crociera che ho fatto due anni fa E del viaggio a Parigi che ho fatto l'anno scorso Adoro farli, adoro riguardarli Anche perché finisce che quando uno è in vacanza viene travolto da tutte le cose che fa E molte cose tendono a non essere pienamente vissute Ecco, quindi per me rivederle più volte anche a distanza di tempo mi dà modo di non dimenticarle E anzi riviverle sempre E la trovo una cosa molto carina Bene sì, abbiamo scelto una crociera Cura adora le crociere A me pure piacciono Abbiamo fatto, visto che l'anno scorso eravamo andati a Parigi E avevamo fatto questa vacanza sfacchinante di una settimana Abbiamo deciso di andare in una crociera Appunto oggi con voi voglio fare la valigia La crociera è un tipo di vacanza molto particolare Le cose da fare sono tante E ci sono anche delle dress code, ecco Ben precisi Chi non ha mai fatto una crociera c'è una prima parte di giorno Dove magari uno esce, va a girare le città Quindi fa effettivamente il turista E servono giustamente un tipo di outfit Poi c'è una seconda parte magari di giorno Sempre in crociera, sulla nave, andare in piscina, le varie attrazioni Mentre c'è una terza parte di giornata Dove si ci veste tutti, tutti eleganti Proprio elegantissimi così E si va al ristorante che è incluso nella crociera Che è molto chic Si va a teatro, si va al bar, nei lunch E quindi c'è bisogno di essere un po' più elegantucci Ovviamente nessuno obbliga Nessuno ha tutto di obbligatorio C'è soltanto che nei ristoranti ovviamente C'è bisogno di entrare degnistosamente vestiti Nel senso uno che esce dalla piscina Non può andare al ristorante Perché sei indecoroso per l'ambiente chic che è il ristorante Ma per il resto nessuno vieta di andare al ristorante Soltanto con una blusa o con una gonna Però io personalmente mi piace un sacco Il fatto di vestirmi elegantissima la sera Anche perché così è un'occasione dove proprio do il massimo di me Mi rendo elegantissima ogni giorno Con vestiti che magari uso poche volte l'anno Il rischio però di avere così tante occasioni Per indossare cose diverse È quello di portarsi troppe cose E che rischiamo magari di non indossare O di portarci dei vestiti con la quale non riusciamo a fare degli abbinamenti Per ovviare a questo io mi sono fatta degli schemini di outfit Utilizzando l'app Wearing Non è sponsorizzato ovviamente figuratevi se mi danno le sponsor Ma è un'app con cui mi sono trovata molto molto bene per organizzare in generale l'armadio In caso pensavo di farci un video apposito Per ogni outfit vi farò vedere appunto la fotografia Per facilitare un po' tutto In questo modo in questo mese mi sono potuta fare una visione di insieme Ed essere proprio convinta degli outfit che porterò Per organizzare tutto in valigia Utilizzerò degli organizzatori di questo tipo Questi me li ha prestati mia zia che ne ha comprati tanti per viaggiare eccetera eccetera Quindi non li ho personalmente comprati Però è un'idea che secondo me può essere molto carina Il fatto che magari uno in famiglia prende queste cose e poi si scambiano Però ve li farò vedere ovviamente a tempo debito E vi darò anche delle idee alternative Fanno poca spesa massima resa e funzionano uguali Detto ciò direi che possiamo proprio partire dagli outfit giorno Qui ho una pila di vestiti E partendo proprio dal primo giorno vi spoilerò Che io partirò con questo vestito e con questo outfit Passando invece al giorno 2 metterò questo vestito Che è questo qui che ho preso non so se vi ricordate nell'ultimo haul di Shane Ve lo lascio qui o comunque lo trovate nel canale Quindi questo di qua va in valigia Passando invece al giorno 3 avrò questo outfit Quindi composto da questi pantaloncini jeans Con questo toppettino così carino con il gattino Perdonate la luce di merda ma sempre che si stia mettendo a diluviare Ho acceso la luce artificiale perdonate In più porterò da abbinare a questi sempre shorts Quest'altro toppettino Sapete nel caso volessi cambiarlo sia troppo sudato una cosa del genere Perché ok che io mi sono fatta esattamente l'outfit da mettere Ma portarsi una maglietta in più oppure un cambio in più Non fa niente anzi Per quanto riguarda il giorno 4 Poi metterò questo camicione Così Ovviamente vi farò vedere poi tutto ben stirato E sistemato nella valigia Insieme a questi pantaloncini L'altra camicetta che è la versione mini dell'altra praticamente Così sono a posto Per quanto riguarda il giorno 5 Metterò questo vestitino Così Molto easy Molto carino Per il giorno 6 Metterò questa gonna che è lunghissima Non so se vedete Ok Abbinata con questo toppettino di qui Da intercambiare con Quest'altro toppettino qua Che è molto carino Molto bellino Poi vi farò tutte le foto Tutti gli shorts Almeno conto di fare tutto ciò E infine per il giorno 7 Metterò quest'altro vestito di qui Anche questo discretamente da stirare Ok Come scarpe intercambierò Come avete potuto vedere dagli schemini Questo paio qua di sandali Che ho preso da Shane E questi di qua Che sono molto più piatti e compatti E sono tipo i sandali alla schiava Che già possiamo mettere in un portascarpe Che è questo di qui Così come potete vedere In questo modo Stanno belle Protette E soprattutto non sporcano in valigia Io vi farò vedere anche un altro tipo di portascarpe Però vi dico che non sono assolutamente necessari Me li ha prestati mia zia Perché li aveva Li aveva comprati per se stessa Ma ovviamente non sono necessari Si può fare la stessa identica cosa Con dei semplicissimi sacchetti di plastica Magari riutilizzando i sacchetti dell'ortofrutta del supermercato Che ogni volta fanno un po' schifo Però uno non sa per cosa usarli Effettivamente sono piccolini Ma sono perfetti magari per avvolgerci le scarpe E portarsene in un viaggio Come sistemerò tutti questi vestiti? Lo farò riutilizzando Almeno per i vestiti effettivamente Le bustine di Shane dei vestiti Ah invece come borsa per girare Almeno per fare la turista Porterò questa di qui Che è la stessa che ho portata a Parigi Che ho visto che bene o male sta un po' con tutti gli outfit Ovviamente ho borse che con un outfit preciso Stanno molto di più Ma mica mi posso portare 14 borse Ecco Mentre come casual Per stare in nave per girare Ma non ovviamente elegante Porterò questa di qui che è piccolina Però per andare in giro al buffet Così la trovo molto pratica Passiamo ora agli outfit eleganti Questi non so esattamente con che ordine andranno Perché il tema della serata si sa sul momento Comunque so che il tema della serata Per certo sono 4 Uno è la serata bianca Quindi si vestirà di bianco essenzialmente Uno è la serata di gala Dove è richiesto l'outfit più elegante Che si riesce a sfoggiare La serata italiana Dove è consigliato vestirsi di bianco Rosso o verde Poi la serata tropicale E le altre 4 serate So che sono casual Ma io mi vestirò casual Assolutamente no Ah e c'è anche la serata Che è anni 60-70 Ovviamente ha preso un outfit stile anni 50 Ma passiamo appunto agli abitini Allora per questo outfit Come potete vedere Questo vestito Che è quello che ho messo per Il mio compleanno Di 19 anni E ho fatto delle foto Anche per un battesimo Che a cui ho partecipato Questo maggio Infatti potete trovare le foto su Instagram Molto carino L'ho usato Alcune volte Devo dire Molto bello Per la serata bianca Invece porterò questo vestito Che ho letteralmente utilizzato Per l'altra serata bianca Nell'altra cosciera Che è questo vestito Che è così È proprio alla greca Nonché ho preso in Grecia Ed effettivamente È proprio lungo lungo così Di cotone Anche questo Da ovviamente stirare Perché è tutto spiegazzato Bellissimo Questo da accompagnare Con questa sottanina Di qua per forza Perché è tipo Iper trasparente La volta che l'ho indossato Ho avuto tanta difficoltà Come altro abitino Elegante Abbiamo questo di qui Che è molto carino Anche se è tipo Storto alla gonna Però fa niente Come potete vedere Dovrebbe venire un outfit Comunque grazioso Per la serata tropicale Avevo pensato A questo Che effettivamente È un pochino più casual Questo è l'outfit completo E questo è il vestitino Anche questo Preso da Shane Tipo l'ho usato Una quantità di volte Innumerevole Poi penso che Per la serata di gala Metterei questo Che è il vestito Invece che ho messo Per il mio ventesimo compleanno All'ultimo compleanno Che è questo di qua E io lo adoro Con tutta me stessa Aspettate che ve lo faccio vedere In tutta la sua magnificenza Io lo adoro Lo trovo bellissimo Qui vi faccio vedere L'outfit completo Mi piace Mi piace un sacco Quest'altro Che vi faccio vedere Con questo abbinamento Che effettivamente È abbastanza elegante Però non lo so Proprio per la serata di gala Forse per una Un pochino più casual Secondo me Ci sta comunque Oppure ho troppo nel cuore L'altro vestito Come potete vedere È così E per la serata Anni 70 80 In cui io ho preso Palesemente Un vestito Di due decenni Prima Porterò questo vestito Di qua Che io adoro Ho usato Una quantità di volte Innumerevole Considerate che questo vestito Ce l'ho da quando avevo 12 anni E l'ho messo come vestito Alla cena della terza media E alla cena Della quinta liceo Ma io lo continuo Ad adorare Mi sta perfetto C'è anche la cintura Come scarpe Per l'appunto Porterò Tre paia Infatti ho studiato Diciamo tutti questi outfit Serali In modo da portare Meno cose possibili E come avete potuto vedere Dagli schemini Un paio È questo di qua Che io adoro Sono super eleganti Bellissime Quando le ho prese Che le ho prese un paio di mesi fa Non ero tanta convinta Perché pensavo Vabbè ma sono troppo alte E sono troppo eleganti Ho detto ma se non le indosso ora a 20 anni Quando lo dovrei fare Quindi le ho prese E ora me le indosso Gli altri vestiti Tipo quella alla greca Quello rosa Quello della serata cocktail Li abbinerò a queste scarpe di qui Quasi quasi mi sono pentita Di aver preso il tacco così basso E così tozzo Anzi anzi Perché io odio i tacchi tozzi Di quelli che anzi tipo Vanno ad ingrossare Qua se potete vedere Va lievemente a scendere Ma vi giuro Non c'erano altri tipi di scarpe Se non questi con i tacchi tozzissimi E invece l'unico che porterò Effettivamente soltanto Per il vestito vintage Però alla fine sono piccoline Non occupano troppo spazio Sono queste scarpe di qui Che ho preso da Shane Che sono delle rosse Con tacchettino basso Scarpe col tacco rosse Ne avevo un paio Ma erano altissime Sono quelle che io ho utilizzato Per il mio diciottesimo Come Bose Invece ho optato per Tre pochette Questa qui nera Per gli outfit Che avranno le scarpe nere Questa qui dorata Per gli outfit Che avranno le scarpe champagne Sì avrei dovuto Prendere una pochettina Champagne Ma non c'era E poi sempre per Il fuori dal coro Che è l'outfit Tipo vintage Ho questa pochette Blu scuro Che soprattutto È molto sottile Quindi ho detto Vabbè anche tu Se devi venire Almeno occupa Meno spazio possibile Per quanto riguarda Le pochette Ovviamente vi consiglio Di riempirle Con quello che potete Perché ovviamente Portare una borsetta Vuota O piena Cambia un pochino Dopo le metterò Ognuna di queste Dentro Questi di qui Che sono tipo Dei sacchetti Di stoffa Molto molto leggera Ma vale lo stesso Discorso delle scarpe Se non avete Questi sacchetti Potete prendere Un sacchetto normale Quanto riguarda Invece le scarpe Con i tacchi eleganti Ho questi altri Porta scarpe Che sono fatti In questo modo Vedete Le metto così Ed ecco qui Il porta scarpe Che essendo morbido Rispetto a una scatola Posso comprimerlo Di più diciamo Come dicevo per prima Metto i vestiti Nelle bustine Stirati eccetera eccetera E vi faccio vedere Come vanno Passiamo invece Alla sezione Costumi Piscina E così Perché ovviamente In nave ci sono Due piscine C'è anche la spa Quindi c'è occasione Di mettersi i costumi Ho praticamente preso Tutti i costumi Che ho Che non sono tantissimi Per carità Però li ho presi tutti Questo di qui Che è fatto da Mutanda così Reggiseno così Questo che è fatto Da mutanda così Che mi piace un sacco Perché Se vedete C'è la stellina Qui tipo Trasparente Questo pezzo Di sopra così Questo di qui Che è giallo Tipo a quadri Che ho da quando avevo Undici anni E continuo ad usare Con tanto orgoglio Questo di qui Che è in questo modo E questo Che ho modificato Un sacco Che vedete Tipo stile Molto ladybug E ho dimenticato Che porterò Anche questo Intero Questo di qui Intero Che spero di stringere In realtà Che li porto tutti Che sono tipo Sei costumi Non conto di cambiare Un costume al giorno Ma quello che succede È che magari Andando in piscina Ogni giorno Il costume che si è usato Non si asciughi in tempo Per usarlo di nuovo Non ti dico Non dico La stesso giorno Ma magari Il giorno dopo Due giorni dopo Questo soprattutto Se come nel mio caso Abbiamo la cabina interna Cioè non abbiamo Una finestra Per quindi poter Far entrare aria C'è soltanto Il sistema di ariazione Poi sempre per la piscina Ho questo Copricostume Che è sul nero E questo di qui Che è sul Sui toni del bianco Ora per quanto riguarda Invece la sezione Beauty Cosa portare Cosa non portare Vi faccio vedere Come ho riempito Il beauty Cosa ho messo A grandi linee Qui ho un beauty Piccolino Che poi tutto sommato Piccolino Insomma Abbastanza grande Spazzola Spazzola 1 Spazzola 2 Mollettone Deodorante Olio per capelli Balsamo Profumo Che ho questo qui Che è già dopo Di The All E che fa il profumo costoso Non lo portiamo in crociera Ovviamente sì Beauty 2 Che è effettivamente La pochette Che in realtà Uso per tenere Tutti i miei trucchi Dove da un lato Ho messo i trucchi E ancora devo mettere Tipo la palette L'eyeliner Mentre dall'altro lato Ho messo Salviettine struccanti Il coso per fare Lo shampoo Il rasoio La crema hidratante Per fare la skin care Poi ho questo di qui Che come potete vedere È un organizer Di pucca Che si apre Dove ho messo Tutte le cose Per i capelli Quindi forcine Fermagli Elastici E questo di qui Che forse è L'unico organizer Che magari vi consiglio Di comprare Perché è effettivamente Comodo Perché come potete vedere È molto sottile Ma dentro In realtà È un portagioie Potete vedere È molto molto Organizzato Ah poi Per il resto Considererei Una mini categoria Intimo Che metterò Essenzialmente In questo organizer Di qui Ma vale sempre La stessa cosa Vedete come è Organizzato In questo modo Metterò Pigama Che è anche lo stesso Che ho portato A Parigi Poi mi porto I tre reggiseni Quattro in realtà Questi tre Che avevo preso Da Shane Che è appunto Uno rosso Uno nero E uno bianco Più bonus Questo di qua bianco Perché mi fa Delle tette magnifiche Poi un delirio di mutande Sia perché le cambio Spesso in crociera Perché fra Il giorno Dopo la piscina La sera Insomma Di cui mi sono premurata Di portare Un paio color carne Se non due paio color carne Perché sotto i vestiti bianchi Le mutande che si vedono Meno in assoluto Sono quelle color carne Queste di qui Di pizzo Che sono coordinate Ai reggiseni Come potete vedere Per le serate eleganti Dopotutto Se non metto queste mutande Per essere elegantissima Quando cazzo le devo mettere Allora Come potete vedere Praticamente Ho sistemato Tutta la zona giorno Essenzialmente Cosa ho fatto Ho messo Raggruppati Per outfit Tutti i vestiti In queste buste Spiegati Stirati Sistemati Che comunque Anche qualora Dovessi poi rimetterli Nelle buste Che sono Spiegazzati Comunque Basta che li piego Per bene E rientreranno Tranquillamente E poi li ho raggruppati In questa sacca Diciamo Qui invece Ho messo Le scarpe Le altre scarpe giorno Vedete quanto Altro spazio rimane Fatto la stessa Identica cosa Da quest'altro lato Della valigia Per i vestiti eleganti Vedete Da chiuso Occupa ancora meno spazio Considerate che Sotto è estendibile Però questa è Proprio la misura Più piccola I vestiti eleganti E i vestiti giorno Aggiungiamo ora Quelle che sono Le scarpe Che forse sono le cose Più critiche Secondo me Perché occupano Più spazio Allora qui Metterei Quest'altra borsetta Dove Come potete vedere Ho messo Tutte le cose Della piscina Quindi costumi Nelle singole bustine E poi sotto I copricostume Alla fine Questa è la disposizione Finale Quindi queste bianche Che vedete Sono le pochette Tanto c'era Un sacco di spazio Qui è rimasto Ancora un pochino Di spazio Qui ho messo La piastra Il coso di pucca Il portagioielli Qui anche dei cerchietti Però vedete Occupa molto poco spazio Qui alla fine Ho messo in questo modo Qui c'è pure Un affrattino Per qualcosa Ed è tutto sistemato Ora chiuderemo E questa è la prima parte chiusa Questa è l'altra parte chiusa E ora chiudiamo la valigia E voilà Pesa un bel po' Però è piena Non sta nemmeno strabordando Eccetera eccetera Non mi ricordo Se ve l'ho detto Questa è una valigia Di misura media Quindi Ebbene Allora Abbiamo fatto La nostra valigia Io sono molto molto soddisfatta Del risultato Del fatto che comunque Sia entrato tutto Che abbia organizzato tutto E che so esattamente Dove sono le cose E che sia anche Tutto sommato Facile Rimetterle in ordine Perché uno dei problemi È magari Si ok Faccio la valigia Tutta ordinata All'andata E al ritorno Un casino Quindi sono molto felice Del risultato Fatemi sapere voi Se magari avete problemi Con le valigie Nel fare la valigia Vi trovate magari Sempre in difficoltà State in linea Per magari Sia su Instagram Seguitemi Per vedere delle stories O anche le foto Delle giornate Come stanno andando E soprattutto Rimanete aggiornati Per il video Proprio della vacanza E niente Se il video vi è piaciuto Mettete mi piace Commentate Condividete Iscrivetevi al canale Ciao a tutti Ciao a tutti